Allora, abbiamo dichiarato guerra all'abusivismo commerciale, vi do qualche dato. Solo nei primi dieci mesi del 2017 sono stati effettuati oltre 166.000 controlli, sono stati sequestrati circa un milione di pezzi contraffatti o non a norma e sono state emesse sanzioni per circa 28 milioni di euro. È evidente che la Polizia Locale sta facendo tantissimo, tuttavia, lo voglio ribadire con forza, finché non sarà attivata una vera collaborazione interforze che consenta di risalire la filiera e di colpire i veri responsabili di questo racket, il fenomeno non potrà essere debellato. Abbiamo necessità di andare a colpire i responsabili del racket.